Di recente si è concluso un importante progetto, un'iniziativa di promozione turistica internazionale tra Georgia, Moldavia e la provincia di Venezia. Scopriamone di più. Venerdì 6 luglio si è concluso un progetto molto vasto per la provincia di Venezia, il progetto Europeo Ciudad, una cooperazione tra la provincia di Venezia, la città di Ungheni in Moldavia e la città di Kutaisi in Georgia. È un progetto che prevede la collaborazione tra questi centri al fine di promuovere strategicamente il turismo sostenibile. Sostanzialmente sono dei paesi, sia la Moldavia che la Georgia, sono dei paesi che vengono da un lungo periodo sotto l'Unione Sovietica e diciamo che in quel periodo non hanno mai avuto possibilità di sviluppare un prodotto cosiddetto turistico. Hanno diverse risorse ma necessita, tutta la struttura organizzativa necessita di trasformare queste risorse in attrazioni proprio, cioè devono soprattutto sviluppare un'attenzione particolare alla messa a punto di prodotti fruibili. È stato presentato nel giro di parecchi incontri negli ultimi due anni il piano strategico di promozione turistica, un turismo che deve essere lento e sostenibile allo scopo di valorizzare al meglio il territorio. La progettazione mirava a far sì che potessimo dare una mano, un modello cooperativo sul turismo sostenibile a due città di paesi come la Georgia e la Moldova che hanno un turismo solo agli inizi. Abbiamo fatto due anni di cammino insieme e diciamo che abbiamo sviluppato un'ottima collaborazione. Abbiamo ricevuto una valutazione positiva da parte del rappresentante della Commissione europea. Ne siamo felici, siamo soddisfatti. I nostri padri, Moldavi e Giorgiani, sono molto contenti. Siamo molto soddisfatti del progetto, è andato oltre le aspettative, ha superato i nostri obiettivi. Per esempio non ci aspettavamo che firmassero questi sei protocolli molto concreti con i comuni del territorio, che è esattamente lo spirito del progetto, scendere nel concreto e nel locale. Quindi io spero che questo progetto vada avanti e anzi che ne faremo altri simili perché è molto positivo. Il progetto Ciudad, che letteralmente significa cooperazione nello sviluppo urbano e nel dialogo, è giunto al suo ultimo appuntamento con la conferenza stampa finale a Cacorner, proprio sulla laguna veneziana, in cui i rappresentanti hanno firmato i sei protocolli di adesione all'iniziativa. Partecipa al progetto anche la Confartigianato di San Dona di Piave, con l'obiettivo di promuovere attraverso un'iniziativa di questo tipo anche l'artigianato locale. Quali sono i vostri scopi? Il nostro obiettivo è quello di confrontarci con paesi esteri. Ovviamente in questo caso cercare di creare anche nel nostro paese degli scambi proprio culturali con questi paesi che sono nuovi, che sono la nuova movida, diciamo così, del futuro. Io personalmente non sono stata in Georgia, però chi è stato mi ha detto che è un paese con delle caratteristiche meravigliose, con dei paesaggi da scoprire, con delle risorse enormi, insomma. Quindi per noi è un momento di internazionalizzazione. Una giornata molto importante, quella di venerdì 6 luglio. I partecipanti alla cooperazione hanno dimostrato soddisfazione nel raccontare i risultati ottenuti e le prossime iniziative che realizzeranno, confermando che questo sarà un progetto a lungo termine. L'ultimo incontro si era tenuto in Georgia, infatti, con la presenza dell'assessore provinciale Giorgia Andreuzza. Oggi avete firmato gli accordi di cooperazione. Quali sono gli obiettivi che avete raggiunto? Beh, innanzitutto è un progetto importantissimo perché nello scenario europeo l'Europa stessa ci riconosce come modello sul turismo sostenibile e per cui ci dà un po' il compito di trasferire le buone pratiche ai paesi che stanno per entrare in Europa, in questo caso la Giorgia e la Moldavia. E noi, proprio diciamo anche i recenti lavori che abbiamo fatto sulla sostenibilità, per cui stiamo lavorando davvero molto, sono stati molto apprezzati e soprattutto è stato riconosciuto il valore importante per attrarre un turismo di qualità. Quindi una cooperazione che continuerà sicuramente nel tempo? Ma continuerà e darà anche delle opportunità ai nostri territori e alle nostre imprese, sia dell'artigianato, ma pensiamo anche al settore del turismo, o chi ha lavorato per effettivamente produrre delle certificazioni che sono riconosciute a livello europeo, può diventare un interlocutore operativo e per cui può andare lì e portare la propria forza lavoro. Altri partner, i paesi dell'area Enpi, la politica di vicinato dell'Unione Europea, con l'intento di estendere il progetto in futuro, eventualmente anche insieme ad altri paesi. Grazie.